Iniziamo subito con la prima recensione legata alla sestina dello strega che facciamo, noi capitalizziamo questo nostro grande amore ovvero il fatto di aver letto la sestina dello strega in maniera intera vuoi non parlarne alle persone che magari vogliono scegliere qualcosa in base un po' ai loro gusti e ai loro interessi diamo qualche direzione, qualche direttiva io ho deciso che non mi esprimo a livello qualitativo nel senso, non voglio dare una classifica, non mi va per un semplice fatto, perché alcuni libri stanno lavorando nella mia testa per cui non so se sarebbe uguale a quella che ho pensato qualche giorno fa né se sarà uguale a quella che penserò fra due e tre giorni quindi nel dubbio mi astengo sono cose che succedono a chi legge tutti i libri e che poi questo input di cose, di parole, lavora sul terreno che trova allora andiamo subito con il primo libro in un ordine assolutamente casuale si tratta di aggiustare l'universo di Raffaella Romagnolo pubblicato da Mondadori, quindi la carta Mondadori di questa sestina la storia è diciamo credo sia uno dei libri più tradizionali fra quelli della sestina, quello un pochino più diciamo sì appunto tradizionale nel suo modo di essere scritto e raccontato la storia è la storia anche con la S maiuscola perché siamo nel 45 la protagonista è Gilla che fa la maestra siamo praticamente all'inizio dell'anno scolastico che inizia il ritardo perché è il primo dell'Italia liberata quindi questa maestra si trova in una scuola diciamo semidistrutta con alcune aule che funzionano che sta cercando di rimettersi in piedi con alcuni dei bambini che vengono raccolti, rimessi insieme per formare delle classi e cercare di riprendere una parvenza di quotidianità quindi nel contesto più o meno in cui si svolge il film della Gortellesi più o meno, prima no credo prima, questo parecchio prima beh un po' prima, nel 45 esatto, pochi mesi prima insomma fatto sta che si ricomincia questa scuola e la maestra diciamo cerca di interagire con queste alunne ovviamente il piano del tempo si sposta capitolo per capitolo perché contemporaneamente alla storia di Gilla sia nel presente ovvero come maestra di una nuova classe sia nel passato come bambina e poi ragazza che ha collaborato un po' alla, no un po' ha collaborato alla resistenza anche facendo la staffetta partigiana c'è anche la storia di una delle sue alunne che lei conosce come Francesca ma che poi scopriamo avere un'identità diversa nel corso del tempo e legata alle sue origini ebraiche quindi è un libro diciamo abbastanza lineare nel suo racconto nel senso che sì, si spostano i piani temporali c'è un po' di, non dico di suspense però di qualche colpo di scena legato ai vari segreti delle famiglie e delle protagoniste però Elina di Massimo è un libro molto godibile piacevole penso che veramente sia un libro non dico che possa piacere a tutti e a tutte però veramente un libro universale anche nel suo modo molto piano di essere raccontato si vede che l'autrice Raffaella Romagnolo è un'insegnante perché è molto diciamo affezionata al mondo della scuola e il personaggio di Gilla è effettivamente un personaggio molto bello ci sono all'interno del libro e da qui il titolo Aggiustare l'universo delle lezioni che Gilla si prepara sui pianeti perché lei praticamente in questa scuola distrutta ha trovato una sorta di modellino meccanico con i pianeti che ruotano e lo sta rimettendo a posto lo sta aggiustando perché suo padre faceva il loro oggiaio e quindi lei ha una capacità insomma con i piccoli meccanismi di farli rifunzionare per questo aggiusta l'universo e contemporaneamente cerca di trovare dei modi efficaci per raccontare la storia dei pianeti la mitologia a queste bambine e quindi diciamo tra un momento e l'altro della storia ci sono queste lezioni e devo dire un libro che mi è piaciuto un certo numero di pagine ma molto molto agile un libro che si legge molto bene credo che sia anche una buona lettura estiva perché hai il giusto grado di impegno ma anche di intrattenimento una buona scrittura quindi questo è secondo me un buon libro Raffaella Romagnolo Aggiustare l'universo sentiamo un estratto dal dialogo che Flai ha avuto proprio con Raffaella Romagnolo ma tutto il sestino lei l'altro carinissima molto gentile diciamo veramente gentilissimo questo è un estratto esattamente dalla domanda che tu hai fatto sull'uso della nostalgia sì e sentite cosa dice Raffaella Romagnolo a Flavia io spesso vado a cercare le storie nel passato in questo caso è successo e anche in altri casi e ogni volta mi viene in mente invece la frase di uno storico che è un famoso storico britannico io non mi ricordo in che saggio ma era un saggio dedicato a quella che lui chiamava l'età crepuscolare che è una bellissima definizione che lui usava per intendere il momento della storia in cui mamma e papà erano ragazzi cioè quella parte di passato che per noi è inattingibile perché non c'eravamo e però ci riguarda da vicino ci tocca da vicino allora tante volte io mi sono trovata a raccontare storie che in qualche modo erano ambientate in quel tempo lì cioè poco prima che io ci fossi e siccome ad esempio con la mia nonna io ho avuto di fatto un rapporto che era materno nel senso che mi ha tirato su quindi anche un po' più indietro e questo interesse io lo misuro anche a scuola io insegno storia e non è vero che ai ragazzi non interessa niente la storia ai ragazzi interessa poco la storia che non ha questa caratteristica cioè che non è immediatamente afferrabile con questa fune rappresentata dalle relazioni dalla famiglia dai nonni dai bisnonni perché lì la soglia di attenzione aumenta fortissimo e credo che allora lì la parola nostalgia funzioni meglio in una versione inglese per parlare di altre lingue che è homesick perché quando vai indietro così in qualche modo nel modo in cui ho cercato di spiegare è come fosse una nostalgia di casa anche del pezzo che non hai vissuto mi ricollego a quello che diceva Dario in questo senso in queste però ecco Chiara ha spiegato molto bene questo fatto che poi la scrittura la narrativa quando prova a essere serie di qualità insomma va a rendere vere le cose che non hai vissuto le alternative che non hai vissuto ecco questa cosa se fatta seriamente per lo meno per quel che mi riguarda mi ha portato spesse volte se non sempre a pensare che non c'era da aver tanta nostalgia cioè che effettivamente un certo mondo che nel caso delle mie storie è spesso un mondo rurale e che è alle nostre spalle non solo perché segnato da conflitti come nel caso di questo libro ma in generale come chiamiamo la civiltà contadina ecco per capirci cioè tutto quello che è venuto prima per noi della trasformazione connessa al boom industriale ecco c'è veramente poco da aver nostalgia a volte ci sono dei nostalgici che la propongono come un'età sicuramente a misura d'uomo rispetto ai ritmi frenetici che abbiamo adesso agli obblighi che abbiamo adesso la pressione sicuramente non era misura di donna ecco questo questo è un po' il frutto delle mie esplorazioni narrative è un po'